7 aprile 2022 varone vassallo buonasera a tutti oggi non abbiamo notizie scritte ma è il momento di fare alcune importantissime e ripeto e sottolineo importantissime riflessioni su una frase gravissima che è stata detta ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace ecco questo è quello che vogliamo vogliamo che di fronte a queste due cose cosa preferiamo la pace oppure stare tranquilli col termosifone acceso anzi ormai l'aria condizionata accesa tutta l'estate io la metterei in questi termini e lei cosa si risponde su questo preferisce la pace o il condizionatore d'aria acceso un'affermazione di una gravità assoluta sembra di riascoltare chiudiamo a pasqua per salvare il primo maggio chiudiamo il primo maggio per salvare il due giugno chiudiamo il due giugno per salvare il ferragosto chiudiamo il ferragosto per salvare il natale e via discorrendo è naturalmente un gioco psicologico ovvero si fa credere alle persone che un male minore sia migliore di un male peggiore e si ripete lo stesso giochetto che hanno fatto dal 10 marzo 2020 in poi e allora è arrivato il momento di chiederci perché una persona di una certa età di 75 anni in giacca e cravatta che parla tutta precisa che ha fatto carriera con le banche che viene definita da chi lo ha messo lì una persona super perché fa tale presa su un popolo di netti perché io ve lo dico sinceramente il popolo italiano apprezzerà moltissimo questa frase detta da questo vile affarista e cominceremo con questo giochino delle austerity ormai il giochetto del sacro raffreddore è quasi giunto al capolinea dopo oltre due anni adesso inizierà il giochetto dell'austerity un austerity la quale è stata voluta stessa da loro e io penso che la frase appena detta debba essere un monito di allarme davvero per tutti o perlomeno per quelle persone che ad oggi ancora riescono a ragionare perché vedete io ormai ho perso la speranza con quelle persone che pensano che un bamboccetto in giacca e cravatta anche a letto come il bibitaro che abbiamo al governo sia una persona seria ho perso la speranza con quelli che pensano che un uomo di 75 anni sempre in giacca e cravatta che parla tutto preciso tutto con la forma faccia il loro bene ho perso la speranza con quelle persone che pensano che un cadavere semovente il quale ha vissuto una vita di paure probabilmente di c'era il libro che aveva scritto speranza in cui lui raccontava di quando giocava con le lucertole chiudeva le lucertole in gabbia potete immaginare quale quali problemi psicologici possa avere vi dico una cosa questa frase che ha detto è terribile è come quando conte proclamò il lockdown stiamo per addentrarci in un altro tunnel nero che hanno provocato loro che fa parte di quel gioco folle per portare tutto il popolo italiano alla totale sottomissione quello che abbiamo visto fino ad oggi io ricorderò sempre una persona che conosco una ragazza covigliona sfegatata che ha fatto sacri rimedi che metteva il sacro feticcio anche quando andava a letto la ricordo a dicembre in gran bretagna alla stazione nel treno nei pub senza alcun feticcio e arrivata qui in italia ha rimesso subito tutto ha ricominciato tutto da capo questo per dire che cosa per dire che il popolo italiano è il popolo più sottomesso e più cretino che esista penso attualmente sulla faccia della terra loro lo sanno e lasciate che ve lo dica l'austerity partirà dall'italia molte altre nazioni proveranno a seguire l'esempio italiano molte altre non riusciranno forse la maggior parte non riuscirà ma l'italia e altri popolini assurdi come quelli che abbiamo visto fino fino a pochi giorni fa accetteranno allegri baldanzosi di farsi limitare di nuovo tutta la loro vita il 10 aprile saremo tutti a filottrano saremo tutti alla riunione di motore italia dovremmo premere molto sull'acceleratore del muoversi con il nostro partito potrebbe sembrare oggi un gioco ricordate quando attorno al 15 marzo no scusate attorno ai primi di marzo pardon del 2020 mettere la mascherina salutarsi col pugno sembrava un gioco sembrava un gioco anche per alcuni divertente il rimanere a casa quanti abbiamo sentito che dicevano ah finalmente mi riposo finalmente mi riposo e dopo quasi che si buttavano dal balcone ecco adesso succederà la stessa cosa spingiamo l'aria condizionata quanto si sta bene sventolandosi con le foglie di fico quanto si sta bene al buio quanto si sta bene continuando a leggere cominciando a leggere un libro a lume di candela all'inizio sembrerà un gioco ve lo dico io entreremo in un tunnel nero dal quale per uscire passeranno il doppio degli anni che abbiamo passato fino ad oggi per il raffreddore sacro questo è un monito di allarme pesantissimo pesantissimo vi garantisco che non c'è da giocarci non c'è da prenderlo sotto gamba non c'è da scherzarci sopra non è più possibile continuare ad avere questi personaggi questi personaggi renderanno la vita nostra e di quelli che oggi sono giovanissimi terribile terribile dimenticate totalmente se non ci muoveremo quello che abbiamo vissuto fino a due anni fa quel mondo lì lo stanno facendo scomparire riflettiamoci riflettiamoci attentamente quello che ha detto è gravissimo a domani grazie grazie grazie